Ok, andiamo facendo un tentativo di registrare l'interfaccia dell'LG Optimus 3D con un altro LG Optimus 3D, lo praticheremo poi su YouTube cercando di scoprire se si riesce a vedere l'effetto, effetto veramente notevole, ci sono parecchi angoli di visione e non c'è un solo punto di messa a fuoco, quindi possiamo guardarlo da varie angolazioni e risulterà assente 3D, ovviamente ci sono degli scatti tra un'angolazione e l'altra, basta posizionarsi nell'angolazione giusta, potete quindi vedere gli effetti 3D anche insieme ai vostri amici Un altro giro dell'interfaccia 3D